Tuo padre è rimasto storpio a scavare questo pozzo. Ormai a casa non c'è più un vero uomo. Togli lei le scarpe piano senza svegliarla. Tua madre è stanca. Devi trovarti un uomo. Che ti aiuta a portare l'acqua. E se mi trovo un altro, che ci faccio con te poi? Vado a stare da mia sorella. I miei genitori dove sono andati? In paese a fare una cosa. Questo è un divorzio consensuale, giusto? Giusto. Batoer verrà a stare con me. I due bambini con Tuglià. Non si discute. Batoer starà con me. Allora perché volete divorziare? Troverò un uomo che si cura di noi e anche di Batoer. Dove abita Tuglià? Chi lo vuole sapere? È per una proposta di matrimonio. Altri pretendenti. Mamma! Mamma! Sengu sta scavando un pozzo davanti a casa. Vai a vedere. Chi ti ha dato il permesso? Ma tu hai restato. Perché non lo chiedi a lui se non mi credi? Perché non lo scava davanti a casa sua? A buona intenzione. Sono venuto a trovarti per chiederti moglie. Ho aspettato 17 anni. Oggi sono venuti in sei a chiedermi moglie, ma nessuno mi ha voluto. È me che non vogliono. Se vogliono me, devono volere anche te. Oggi sono venuti in sei a chiederti moglie.